gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia matteo salvini ha dei dubbi sulla pena di morte dubbi notturni del capo della lega dopo il caso della donna mangiata dai maniali raccolgono un elevato numero di consensi tra i sostenitori del carroccio una riflessione notturna diciamo di matteo salvini che riapre il grande dilemma etico sulla pena di morte nel nostro paese salvini dice io sono contrario sono contro la pena di morte ma devo dire che di fronte a certe a certa infame violenza qualche dubbio mi viene scrive sui social del capo della lega il riferimento alla 44 anni imprenditrice di limba 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 di un piccolo centro nella provincia di vidbo valentia scomparsa misteriosamente il 6 maggio del 2016 nelle scorse ore un collaboratore di giustizia ne ha rivelato l'atroce fine sarebbe stata rapita e uccisa per non aver ceduto un terreno a un boss locale dell'andrangheta il suo corpo poi sarebbe stato dato in pasto ai maiali o macinato col trattore beh quella di matteo salvini è stata una riflessione ma sotto il suo post ha ricevuto moltissimi commenti 22.000 mi piace 1200 condivisioni oltre 2500 commenti ma dobbiamo dire che i post di salvini essendo l'uomo politico più seguito sui social sono sempre molto condivisi con molti like e molti commenti diciamo che questo post è in linea con con tutto quello che scrive matteo salvini come risonanza c'è chi lascia apprezzamenti come ad esempio il deputato della lega calabrese domenico furgiuele furgiuele un po difficile da pronunciare beh c'è chi contesta la sua riflessione chi ha l'appoggia ma questi chi appoggia la sua riflessione sembrano assolutamente la maggioranza qualcuno scrive per certi crimini non esistono altre soluzioni qualcuno scrive bisognerebbe riaprire i piombi di venezia pane acqua e torture la morte sarà lenta inesorabile non sono pazza dice una signora ma certi esseri meriterebbero certi trattamenti quindi qualcuno dice matteo pensaci tu beh insomma diciamo che qualcuno anche interpreta dicendo a me viene il dubbio che ferati omicidi avvengono soprattutto perché non c'è la pena di morte in italia ma matteo diciamo che il commento arriva del movimento 5 stelle che dice avere dei dubbi sulla pena di morte significa stare con la con la testa qualche anno prima di cesare beccaria evidentemente salvini ha bisogno di aggiornarsi e non sono certo né trump né bannon le persone alle quali guardare per aggiornarsi allora il finale del post dei 5 stelle non ha nessun senso che cosa c'entra trump e bannon negli stati uniti c'è la pena di morte ma non è che l'ha creata trump o l'ha creata bannon la pena di morte negli stati uniti c'è da sempre c'è da dire che ultimamente trump prima di andare via accelerato alcune alcune di queste condanne però nel senso che c'entra trump e bannon allora lì la pena di morte in italia se non era prevista in alcuni casi è stata cancellata anche in quei casi dalla costituzione quindi è solo una riflessione di matteo salvini che a volte viene anche spontanea anch'io sono contro la pena di morte sempre e comunque sostituire la pena di morte con l'ergastolo su questo non ci sono secondo me alternative l'ergastolo sempre e comunque mai la pena di morte a nessuno anche al peggiore dei mostri della terra io vi ringrazio per avermi ascoltato vediamo volevo raccontarvi qualcos'altro beh sì si preparano le ong preparano la loro vendetta contro matteo salvini perché oggi sarà l'udienza preliminare sul caso open arms a palermo l'ong dice non ci saremo sono stati violati i diritti i diritti salvini risponde io ho fatto il mio dovere come reale che sia ha fatto realmente il suo dovere ma lui si presenta adesso a palermo perché il senato lo scorso 30 luglio aveva approvato perché ha tolto l'immunità a salvini ha autorizzato i giudici a procedere contro di lui il caso risale all'agosto del 2019 con la nave open arms che non è voluta per nessun motivo andare in spagna nonostante la spagna abbia detto venite vi mandiamo anche due navi no in spagna no perché lì non scherzano mentre in italia si può fare alla fine praticamente quello che si vuole male che ti va qualche sindaco ti dà una medaglia al valore come è successo a carola racchette quindi la procura siciliana apre questo fascicolo contro matteo salvini contestati come dicevamo reati di sequestro di persona multiplo e abuso di ufficio quindi erano stati trasmessi gli atti alla procura di palermo il 29 novembre 2019 è così nel primo febbraio del 2020 proprio il tribunale di ministri di palermo è inviato al senato la richiesta di poter procedere nei confronti di salvini l'iter è stato poi rallentato dall'emergenza coronavirus e si è conclusa con il via libera definitiva dell'aula di dell'aula del senato quindi il secondo tentativo di processo o meglio il terzo perché c'è stato quello diciotto della nave diciotto quello della nave gregoretti e quello della nave open arms tre tentativi il primo bloccato dal senato perché c'era il governo con i cinque stelle cinque stelle hanno bloccato poi salvini non era più che i cinque stelle cinque stelle l'hanno mandato a processo che alta morale che hanno questi cinque stelle ma dicevano sono processi diversi no sono esattamente esattamente la stessa identica cosa naturalmente conte i cinque stelle quando erano con salvini lo hanno protetto contro salvini lo vogliono mandare e lo hanno mandato a processo complimenti a conte e i cinque stelle per la loro alta moralità vengono i brividi a parlare della moralità di conte dei cinque stelle la doppia la tripla la quadrupla moralità però questo è quello che è successo quindi matteo salvini per la seconda volta in sicilia perché sul caso 18 è stato bloccato il caso gregoretti il caso open arm per due volte il senato per sbarazzarsi politicamente di salvini lo manda a processo veramente inquietante e imbarazzante aver permesso alla magistratura a una parte della magistratura di democrazia di come si chiama questa corrente non me lo ricordo questa corrente di sinistra ha voluto riaprire questi casi quando le procure avevano già chiuso il caso perché il fatto non sussiste bene ovviamente sapete il perché io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti grazie a tutti